...e arriva il Fonte di Sabine, ma non scendevano, non lo attraversavano il Fonte di Sabine, come parete adesso c'è scavata nella roccia una scala che scende giù, adesso anche sta chiusa e o criterata perché è pericolante, perché non sicura, non di facile è convenzionato, quindi attraverso questi signori andavano a lavorare all'alba ed era la strada, quindi il lavoro cotta i suoi frutti, il quartiere cresce, viene su una chiesa degna di questo nome prima la chiesa, come anche nell'ultimo terremoto, prima era l'estaurata a chiesa e poi la serie di casi, andiamo a vedere queste case di una certa importanza, non possiamo passare a parlare di uomini, anche se i uomini qua vengono delle comunità, vi rinuncio, ad lavoro, prego!